Il nostro sistema solare non smette di stupirci. Un astronomo del SETI ha scoperto una nuova luna. Te ne parlo dopo la sigla. Nel frattempo supportami iscrivendoti al canale e cercandomi su Instagram e gli altri social. E' proprio il caso di dire che Nettuno l'aveva mai scoperta prima. Perché è proprio attorno al pianeta Nettuno che orbita la nuova luna individuata all'interno del nostro sistema solare. E' stata chiamata Ippocampo e l'autore della scoperta è Mark Showalter, astronomo del SETI Institute. Per essere precisi, il corpo celeste era stato scoperto nel 2013 ed era stato chiamato S2004N1. Da quella volta sono state effettuate altre scoperte morfologiche relative a questo oggetto. Ed è per questo che si è deciso di cambiargli nome. Si tratta della luna numero 14 per Nettuno. Forse è un po' complicato da spiegare, ma semplificando al massimo, per la precisione, Ippocampo è la luna interna numero 7 che orbita attorno a Tritone, ovvero la luna più grande di Nettuno. Ippocampo misura 34 chilometri di diametro e per questo è il più piccolo satellite del pianeta. Il suo periodo orbitale è di quasi 24 ore. La scoperta è importante e non è stato neppure tanto semplice effettuarla visto le piccole dimensioni di Ippocampo e la grande distanza a cui si trova da noi. Uno degli ultimi corpi celesti scoperti all'interno del nostro sistema solare era stato Far Far Out che attualmente è l'oggetto più lontano mai scoperto nel nostro sistema solare. L'origine di Ippocampo è molto affascinante. Si pensa che sia relativamente giovane e che si sia formata dall'impatto di una cometa con la vicina luna Proteus. Come detto, l'universo non smette mai di affascinarci. Bene, ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Se il video ti è piaciuto e vuoi supportarmi, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Ti invito anche a dare un'occhiata alla mia playlist relativa ai misteri dell'universo. Ci troverai tante notizie correlate, come ad esempio la notizia della scoperta di Far Far Out. Ti ricordo inoltre che mi trovi anche su Instagram e Twitter. come Magic-Lucoral e su Facebook semplicemente come Lucoral. E tu, lo sapevi che Nettuno ora ha 14 lune? Pensi che se ne troverà una quindicesima? Fammelo sapere nei commenti. Un saluto nettoniano da Lucoral. E tu, lo sapevi che mi trovi anche su Instagram e Facebook semplicemente come la notizia della scoperta di Far Far Out. E tu, lo sapevi che mi trovi anche su Instagram e Facebook semplicemente come la notizia della scoperta di Far Out. E tu, lo sapevi che mi trovi anche su Instagram e Facebook semplicemente come la notizia della scoperta di Far Out. Grazie.